Però perché non hai detto Alessandra, la scusa? Severini che è qui con me, ci rivelerà chi sarà il prossimo direttore del Corriere della Sera. Intanto la situazione è straordinaria, perché sono qui a Camogli, dove c'è il Festival della Comunicazione, c'è un tramonto pazzesco. Dillo a quelli che stanno lavorando all'ascolto della zanzara, lavorando nei camion, nei taxi. Tu sei a Camogli a prendere un cocktail insieme a Severini, a intellettuale, davanti a un panorama pazzesco. E io pago, e io pago. Come dico, tu paghi, tu paghi il signor Squinzi, ma qui comunque questo soggetto non lo paga. Allora, signor Squinzi, volevo dirle in diretta, che lei sta pagando un signore, anche diciamo in maniera, non dico, non tanto, ma abbastanza profumata, sta pagando un signore che sta passando una giornata di totale relax il giorno di venerdì. Sì, lo voglio dire Squinzi, lo diciamolo chiaramente. Scusa Massimo, diciamolo chiaramente, signor Squinzi, scusi, lei che è per la produttività, per le cose così, lei sta pagando, ma quale lavoro? Lei sta pagando, sta pagando, un signore, siamo a David Parenzo, andiamo a controllare i contratti, il quale è a Camogli, a Camogli, così oggi c'è un tramonto bellissimo, e sono in una stanza favolosa di alberi, oggi mi ha chiamato, qua c'è un alberi, capito, signor Squinzi, vogliamo fare qualche cosa, vogliamo intervenire in maniera drastica. Giletti, lei è fidanzato? Squinzi, con i soldi che si fa, con la vendita di Zazza alla Juve, voglio dire, può pagare anche altro che a Camogli. No, ma che c'entra Zazza alla Juve, adesso la Juve credo che Zazza sarà quasi al 100%, non al 50%. No, arriva, arriva, ma dico, con i soldi che incasserà può pagare anche sicuramente il soggiorno, oltre che a Camogli, anche in qualche caso. Adesso faccio la Gruber, è vero amore? La Gruber? No, io faccio la Gruber, è vero amore con Alessandra Moretti. Non lo dico, con la Gruber? No, con la Gruber, con la Gruber, no, per carità. Non ti piacciono le milfa adesso? No, no, io sono molto sul privato, non apro il lucchetto, è un lucchetto. Vabbè, ma scusa, ma quando uno dice se è fidanzato sì o no, uno deve rispondere sì o no, questo sì. No, ma che deve rispondere? Beh, uno si dà un bacio, fotografato, non è che vi siete nascosti, uno può dire sì, sono fidanzato, abbiamo una storia. Ma perché uno deve raccontare? Se si fa fotografare, uno deve raccontare. Ma non è che si fa fotografare. Vabbè, Vabbè, Massimo. Dai, ci hai provato, va bene. Ti abbraccio, dai. Ci amacca moglie anche noi. Ciao, ti abbraccio. Ciao. Ma veramente hai Beppe Severnini che tanti anni fa parlava seriamente da questi microfoni, che sono diventati qualcosa di leggermente diverso. Ma adesso vedrai, lo riconoscerai dalla voce. Ma veramente stai dicendo? A fianco a me c'è il signor Beppe Severnini, autorevole firma e collega della sede. Troppo passo, vediamo se lo riconosci dalla voce. Vediamo, vediamo se è lui, perché secondo me ti sei inventato il solito scherzo. Beppe? No, ma il tramonto è pazzesco. Veramente, lui il Parenzo non è dentro, è fuori su una terrazza, sembra un film, giuro. E lui ha la camicia bianca, prima aveva blu alle 5 perché l'ho visto, adesso ha la camicia bianca come Renzi, divino, è appoggiato alla Balaustra e c'è un tramonto bellissimo e c'è il profilo delle montagne, il profilo di Camoglio e il profilo di Parenzo. Squinzi! Squinzi! Vogliamo intervenire? Vogliamo intervenire su questa cosa? Cioè si è cambiato la camicia, è andato in albergo. Giornata lavorativa, la vogliamo cancellare questa giornata lavorativa, caro Squinzi? Dal contratto di Parenzo, testimonianza di Severnini, se hai bisogno in tribunale di qualche testimonianza, di una giornata di totale relax, passata da David Parenzo e io pago. C'è un sacco di cose. Ma che lavorare, dai Beppe, su, dai. Senti, ma tu... In questo momento, ho visto che siamo qua in Liguria, nei colpi, sembra Byron. Bah, Byron, Byron. C'è un atteggiamento, quando vi ascolto la radio, immaginarlo che sembra... In questo momento, io sto vedendo, non si può, in radio non si vede, posso mandarci una foto, sembra Parenzo, sembra Byron, ha anche un atteggiamento molto pensoso. Senti, ma Parenzo mi ha detto che tu ci vuoi rivelare chi sarà il prossimo direttore del Corriere della Sera. Ma è vera questa cosa qua, che tu lo sai? E lo faccio volentierissimo. Il prossimo direttore del Corriere della Sera, chi sarà? Chi sarà? Pronto? Ma siete morti tutti e due? È chiaro. No, aspetta. Chi sarà evidente? Cioè, chi è? Sei tu? No, no. Ho detto, il prossimo direttore del Corriere della Sera, ma è una cosa abbastanza evidente, sarà... Muto. Muto. Secondo me è una cosa che capiscono tutti. Sì, capiscono tutti. Sarà? Silenzio. No, dai, stavo... No, 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 l'ho capita, l'ho capita come cosa. Ma perché siamo qui, siamo qui? Senti, no, è che avere di fianco lui, capisci, è un pessimo, è una pessima influenza. Eh, lo so, lo so. Senti a giocare col mutuo del telefonino, tutto qua. Lo so, il mutuo del telefonino, perché non... Ma tu preferiresti, ecco, se ti voglio mettere in difficoltà, ma non ci riuscirò. Tu preferiresti, che ne so, Cazzullo, Calabresi oppure un esterno? Calabresi è un esterno, in realtà, però, insomma... Allora, io c'è... O Severnini, o Severnini, o Severnini. Severnini è un'ipotesi impossibile. A Camogli, no, 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 no. Non lo faresti mai, non lo faresti mai. No, ma l'ho già risposto, questo è come il papato laico del giornalismo, se uno te lo chiede, i colleghi te lo chiedono, non lo fa. Ma non me lo chiedono, non sono adatto, non lo farò. Invece, i nomi che mi hai fatto, sono dei bravi colleghi, però voglio andare un passo oltre. Ti dico che sarebbe, sai che sarebbe una... Io lo dico senza nessun imbarazzo, quei due vanno benissimo, sono tutte persone con cui si lavora bene, poi, alla fine, nei giornali, conta quello che sai fare o non sai fare, arriva un nuovo direttore. Però ti faccio un nome, sai che sarebbe? Bravissima, Barbara Stefanelli. È il nostro vice direttore a fare una grande... Ma la conosco benissimo, la conosco benissimo. Però magari i nostri ascoltatori... Barbara Stefanelli è una... No, è una donna che lavora come un mulo pazzesco fino alle due di notte. Barbara è una donna fantastica e noi le faremmo i corazzieri intorno. Saremmo felici di averla, io e come tanti altri. Poi arrivano i nomi che mi hai detto, un altro. Io credo che il codiere sia un po'. L'importante è che sia proprio bravo. La persona che arriva adesso è brava. Beh, però qui, Parenzo, c'è uno che non mi sta ascoltando, credo perché ti ha passato il telefono, è una specie di investitura. Cioè, una firma come te, eccetera, dice beh, io preferirei che fosse una persona interna, molto brava, anche meno... Non particolarmente visibile. Hai detto, però, chi se ne frega. C'è una che... Eh, una che sta dentro, cioè... Allora, Calabresi è esterno, ma è bravo. Cazzullo è interno, ma è bravo. Altri nomi ti posso fare che sono bravi. Non ti faccio, perché so in che programma, non ti posso dire altri tre o quattro nomi che sono girati, che mi viene troppo alto per buttarsi nel Mar Ligure. Però mi preoccuperei molto, ecco. Eh, come no? Dimmi una persona di cui ti preoccuparesti e non ci pensi. Senti, tra Marchionne e Montezemolo con chi stai? Perché adesso lasciamo perdere le cose così, ma avrai più simpatia per quello che è stato detto, eh? Per l'uno o per l'altro? Eh, ma mi sembra che... Mi sembra che un avvicendamento ragionevole la gente... Ecco, fossi stato a Montezemolo e non avrei aspettato di sentirmelo dire. Questo vale per i conduttori dei programmi radiofonici, per i giornalisti, per i direttori, per chiunque. Bisogna sempre capire un attimo prima di... Non bisogna lasciarsi accompagnare alla porta, bisogna dire dieci minuti prima. Eh, però vai a sapere, cioè vai a capire quando è il momento giusto. Dici che aveva tutti i segnali per capire che era il momento giusto. Io e te non lo sappiamo di sicuro queste cose, però se uno lavora in quel mondo, detto questo, mi sembra una cosa abbastanza ragionevole. Uno ha fatto lungo tanti anni. E tutti i soldi di buonuscita, è tutto normale secondo te? Oppure c'è un'esagerazione? Sono tutte cose... Ah, ve li avessi io. Non dubito che quando lascerò il Corriere avrò questo. E diventiamola così, sono società private, quindi fanno quel che vogliono. E a me mi ha fatto impazzire una frase di Marchionne quando ha detto beh, non possiamo arrivare ai quattordicesimi, settimi. Questa è una cosa insopportabile. Questo l'ho trovato una cosa meravigliosa, perché è proprio... Ma lui, ma anche se è italiano di origine, lui è americano di cultura, di formazione, quindi per gli americani non è che fanno la gara in Formula 1 per arrivare alla Ferrari. Ho vissuto in America e ti assicuro che è una cosa per cui è un danno vero. Cioè, se tu continui ad arrivare decimo, arriva l'anno in cui non dicono è la macchina vincente. Cioè, è un danno vero commercialmente, certo. Da un punto di vista commerciale... Non è che le faceva una questione, capisci, più romantica. perché raggiungo quattro conti. Grazie, ciao, ciao Beppe. Ti saluto, allora cosa faccio? Te lo mando a casa o lo lasciamo qui? No, 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 se no chiamo uno sguattero di uno sguattero, un tirapiedi di squinzi e lo faccio bastonare. Ciao, ciao, fate schifo.